La Fondazione Toscana Life Science con sede a Siena è un ente no profit fondato da Regione Toscana, Università e Scuole Superiori della Toscana. La Fondazione sta lavorando per individuare una terapia per il Covid-19. A questo gruppo si deve la scoperta dell'anticorpo monoclonale specifico contro il virus che presto si trasformerà in cura. Rino Rappuoli è a capo della Fondazione e in questa intervista fa il punto sullo stato della sperimentazione. Nello sviluppo del nostro anticorpo monoclonale contro il Covid abbiamo concluso da poco la fase 1 che doveva dimostrare in volontari sani che l'anticorpo è sicuro, viene dato per iniezione, si dà la concentrazione giusta nel sangue e che dà una concentrazione di anticorpi che sia uguale o superiore a quella indotta dai vaccini più efficaci. Questi risultati sono stati ottenuti e grazie a questi risultati adesso abbiamo cominciato la sperimentazione fase 2-3 in cui l'anticorpo adesso viene dato a persone positive al tampone da 72 ore e in queste persone andiamo a vedere se l'anticorpo riesce ad accelerare la guarigione della malattia e a farli diventare negativi al tampone in un tempo molto più rapido. Unicopa Firenze ha promosso una campagna di raccolta fondi per sostenere la ricerca sulle terapie per curare il Covid-19 che ha permesso di raccogliere oltre un milione e mezzo di euro. Coop ha raddoppiato ogni contributo donato. Grazie alla donazione della Coop noi siamo riusciti a mettere su un laboratorio di data science che vuol dire usare tutta la potenza dei computer di oggi per studiare virus, batteri, anticorpi, epidemie e così via per essere all'avanguardia in queste cose, una cosa indispensabile nella scienza di oggi. Abbiamo già reclutato la persona che guiderà questo gruppo e adesso lo sta reclutando il resto del team. L'altra cosa che stiamo facendo è mettere su un laboratorio ad alto contenimento che si chiama di biosicurezza livello 3 dove possiamo studiare batteri, virus che sono pericolosi e quindi vanno studiati in questi laboratori. Tutte e due le cose sono assolutamente indispensabili per metterci in grado di studiare le pandemie e i patogeni che stanno emergendo.